Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Classe 1899, Eugene Ormandi è stato uno dei grandi direttori d'orchestra del passato. Forse meno noto ai più rispetto ad altri nomi altrettanto illustri, Ormandi si ricorda anche per il suo lunghissimo sudalizio con la Philadelphia Orchestra, uno degli ensemble più antichi e prestigiosi del nuovo mondo. Fondata nel 1900 per promuovere l'attività sinfonica dell'Academy of Music, nel 1912 l'orchestra di Philadelphia vede salire sul podio come direttore stabile Leopold Stokowski, un americano di origini polacche che con il suo stile neoromantico e le sue intenzioni divulgative sui grandi della musica, per il tramite di questa prestigiosa compagine riesce a far emergere la sua impronta stilistica oggi ricordata come Philadelphia Sound, un suono d'orchestra ricco di archi e di impatto emotivo. Già violinista prodigio, ma grande estimatore di Toscanini, Ormandi inizia prestissimo la carriera musicale e in modo molto singolare. Negli anni venti infatti è già direttore di piccoli gruppi strumentali che accompagnano la proiezione di film muti nei cinema di New York. Attratto dalla possibilità di incidere con la RCA Victor, agli inizi degli anni 30 Ormandi accetta un primo incarico di direttore della Minneapolis Orchestra. Realizzando nel corso degli anni incisioni di grande raffinatezza, prima solo come vice di Stokowski e dal 1938 in pianta stabile, Eugene lascia definitivamente Minneapolis per traslocare a Philadelphia. Morirà nel 1985, ma dal 1936 fino all'ultimo concerto del 1984 alla Carnegie Hall, Ormandi continuerà a dirigere la sua orchestra in un vero e proprio sodalizio matrimoniale. Prima di cedere il podio nel 1980 ad un giovane Riccardo Muti, Ormandi arriverà a dichiarare e ha ragione il suono della Philadelphia Orchestra Sono Io. Grazie al suo talento e al suo stile romantico, espresso da un suono caldo e ricco di colori, di quella che è considerata una delle migliori orchestre al mondo, sin dalle prime incisioni per la RCA, il direttore ungherese ha sempre avuto un rapporto privilegiato con il disco. Lasciando su Solco più di 500 titoli. E' anche grazie alle sue incisioni che Ormandi ha permesso di far conoscere agli appassionati autori allora all'avanguardia, come Schoenberg, Berg, Sibelius e Codali, il suo maestro. C'è un titolo in particolare che ha accompagnato Ormandi nei cinque decenni della sua carriera di direttore della Philadelphia Orchestra. Un titolo che più volte ha inciso su un microsolco e ogni volta è stato presentato come all'avanguardia dal punto di vista della qualità della riproduzione sonora. Questo brano è la suite Scheherazade di Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov. Figura singolare del tardo romanticismo russo, ex militare ed inizialmente anche autodidatta, il compositore Rimsky-Korsakov lega la sua parabola artistica a quella del Gruppo dei Cinque, un possente gruppetto, come sarà definito dal loro teorizzatore Vladimir Stasov, intenzionato a sviluppare uno stile nazionale con un repertorio che mantenesse viva la tradizione musicale russa in contrasto con le derive occidentaliste di compositori più isolati come Tchaikovsky. Il Gruppo dei Cinque sarà ispiratore della successiva generazione di compositori russi quali Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev e Rachmaninov. Dei Cinque, Rimsky-Korsakov fu l'elemento più sensibile ed aperto alle influenze esterne, finemente integrate nella tradizione nazionale grazie alle sue capacità di virtuoso orchestratore, dai timbri e dai colori vivi e luminosi, a tratti orgiastici, che avranno una forte influenza su tutta la produzione del primo Stravinsky, almeno fino alla Sagra della Primavera. Questa sua abilità di mediatore, emerge chiaramente in quella che è una delle sue partiture più note e più incise dalla discografia moderna. Proprio la suite Scheherazade, opera 35, eseguita per la prima volta a San Pietroburgo nel 1888. Per Scheherazade, Rimsky-Korsakov si ispira alla tradizione orientale dei racconti di Mille e una notte, con una partitura dall'orchestrazione sgargiante, nella quale gli spunti tematici di base si ripresentano continuamente, come a disegnare il ricamo di un tappeto perziano, sul quale scorrono paesaggi ed immagini che raccontano episodi da favola. I quadri si ispirano alle vicende del crudele sultano Shachriar, il quale, convinto dell'infedeltà femminile, ha giurato di uccidere ognuna delle sue mogli dopo la prima notte di nozze. Solo Scheherazade avrà salva la vita, grazie alla sua abilità di intrattenerlo per Mille e una notte raccontando gli storie fantastiche. Ciascuno dei quattro movimenti su cui si sviluppano altrettanti quadri racconta liberamente una fiaba in musica, al di là di qualsivoglia intenzione programmatica. C'è la fiaba del marinaio Sinbad nel primo movimento, il racconto dei divertenti scherzi del principe Calendo nel secondo, la storia del giovane principe e della giovane principessa nel terzo e infine la vicenda del festival di Baghdad, a cui si lega la storia del terribile naufragio di Sinbad, che chiude la partitura con un'incredibile fantasie di virtuosistiche invenzioni orchestrali, terminate solo dal ritorno alla realtà della fiaba nella fiaba, quando ormai il sultano è vinto dal fascino di Scheherazade ed esiste definitivamente dalle sue crudeli intenzioni. Per quanto ho potuto ricostruire analizzando numerose riviste dell'epoca, Ormandi ha inciso per la Columbia Records almeno quattro differenti versioni di Scheherazade, una per decennio. La più remota nel tempo risale al 1947. Già disponibile su 5,78 giri, con la stessa copertina del disegnatore Alex Steinwas, la suite fu ristampata dalla Columbia nel 1948 per uno dei primi LP della storia, ancora in formato 10 pollici ed ancora con audio monofonico. La recensione di Audio Engineering di gennaio del 49 racconta di come questo disco fosse utilizzato dagli ingegneri come software per dimostrare la qualità delle apparecchiature audio del tempo. Siamo agli inizi dell'alta fedeltà e Scheherazade è già un disco test. La Scheherazade del 1947 è ascoltabile su Quobuzz in qualità iRES 24 bit 96 kHz, estratta dal grande cofanetto Sony che raccoglie tutte le incisioni monofoniche di Ormandi per la Columbia. Ovviamente siamo di fronte ad un'incisione storica rimasterizzata, dal basso rumore di fondo, ma non proprio correttamente rappresentata nello spazio sonoro. Molto schiacciata verso il centro, lo spettro delle basse frequenze è posto più indietro rispetto a quello delle medie ed alte, risultando poco reale nella scena sonora. Di contro, come evidenziava già il recensore di Audio Engineering, la registrazione non sembra in studio, ma piuttosto un'incisione radiofonica trasmessa dal vivo. Il suono è ricco, ma un po' piccolo. Non so quale fosse quello del 78 giri, ma l'interesse per questo brano resta solo per finalità artistica o di archeologia audiofila. A distanza di 6 anni, Ormandi ritorna su Sherazad con un'altra incisione di riferimento nel catalogo Columbia. Registrata a dicembre del 1953, sulla copertina campeggia la scritta Una magnifica avventura in alta fedeltà. Anche nelle recensioni di High Fidelity del tempo, questa nuova edizione della suite di Rimsky-Korsakov veniva segnalata per il sensibile miglioramento della registrazione nel catturare il suono vero dell'orchestra, a confronto con la precedente. Anche questa edizione è presente su QuoBuzz, in qualità iRes 24 bit 96 kHz. All'ascolto, il leggero fruscio di fondo suggerisce l'uso di un nastro a bobina come master. Rispetto all'edizione del 47, lo spettro sonoro si fa più ampio, ma restano più in evidenza le alte frequenze rispetto alle basse. Il pizzicato dei violini non emerge immediato. Va ricercato nel suono della partitura se la si conosce. Quello che cambia sensibilmente qui è la scelta direzionale. Sherazad diventa quasi una sinfonia di impronta maleriana. I tempi si allungano, il taglio è drammatico, ma meno spontaneo e brillante. Le atmosfere orientali si sfumano nelle ampie frasi del direttore ungherese. Personalmente tra le due preferisco quella del 47, che trovo più leggera e spontanea nel rappresentare il clima fiabesco di quest'opera. In realtà questa lettura del 53 prepara il terreno al capolavoro della successiva. Nel febbraio del 1962, ormai il terreno al capolavoro della scelta di quest'opera di quest'opera di quest'opera di quest'opera di quest'opera di quest'opera. Mandi torna a reincidere la Sherazad con la sua Philadelphia Orchestra. I nove anni che separano questa registrazione dalla precedente vedono un'incredibile evoluzione nelle tecniche di registrazione. E quello che arriva ora all'orecchio, appena si poggia la puntina o si posa il laser della riedizione in CD del 1991, è un'incredibile quantità di colori orchestrali e di ricchezza del messaggio sonoro. La recensione su Billboard dell'epoca la indicava come un riferimento per impressionare gli audiofili nei negozi hi-fi o alla radio. Di questa lettura esistono sia la versione monofonica sia quella stereofonica. Quella in CD è ovviamente quella stereofonica, con suono stereo spettacolare a 360 gradi, come campeggia anche qui nel fronte e nel retro della copertina dell'LP originale. Io non ho elementi oggettivi per indicare questa incisione come il riferimento, ma se non lo fosse credo che ci siamo molto vicini. Ai Fidelity del 62 ne cita altre, soprattutto quella di Beecham e di Reiner, che non è escluso tratterò nel futuro di questo canale. Per ora considero la versione del 1962 come il mio riferimento, ma non solo per il suono, anche e soprattutto per l'imponenza di questa lettura. Qui l'incredibile respiro orchestrale del Philadelphia Sound trova la sua eccellenza. E Sherazade diventa una nuova scoperta di gioia, sensualità, poesia, vigore o terrore, man mano che si susseguono i quadri dei Mille Una Notte. Il tutto accompagnato da un'esperienza di ascolto che, se ben riprodotta, circonderà letteralmente le vostre orecchie, vi ruberà lo spirito e vi trascinerà per 40 minuti nel mondo delle favole. Questa lettura diventa la prova del lavoro di scavo della partitura che ogni direttore sviluppa nel corso degli anni, man mano che approda la sua maturità artistica e professionale. Ma questi risultati li ottengono ovviamente solo i grandi direttori. Neanche a dirlo, questa è l'edizione da possedere, tanto più che la raccolta in CD include anche l'ouverture della Pasqua Russa e il capriccio spagnolo che a loro volta meriterebbero un approfondimento dedicato. Ma qui ve li ritrovate a gratis, come si dice a Roma. No 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 Grazie a tutti. Tornerà a Sherazad nel 1972 per la RCA Victor, con una registrazione quadrifonica che ancora una volta eleva il valore artistico sull'altare dell'Alta Fedeltà. Purtroppo questa edizione non è presente su Quobaz, ma dalla mia DVD-teca ne ho recuperata una a Quoeva grazie all'opera editoriale della D'Agostini Invito alla Classica in DVD. Senza dare la sensazione di stare di fronte ad un evento memorabile, questa probabilmente ordinaria esecuzione è registrata dal vivo nel 1978 ed è ripresa proprio nel Reame di Ormandì, ossia l'Academy of Music di Filadelfia. È un Ormandì ormai quasi ottantenne che di lì a poco abdicherà a beneficio di Riccardo Muti. Il DVD diventa così un documentario prezioso che testimonia anche in video la fine del glorioso sodalizio tra il direttore ungherese e la sua orchestra. Tradizionale nei gesti, autorevole dietro il sorriso di soddisfazione, Ormandì è ancora brillante nel dirigere tutto a memoria e nel governare un'estesa compagine in una partitura tra le più virtuosistiche dell'intera letteratura musicale russa. Chiudo questo lungo excursus con qualche immagine catturata dal DVD, che i più curiosi possono recuperare anche da YouTube, seppur in una qualità che non rende giustizia ad un direttore per tutta la sua carriera attento all'opera ma anche al suo contenitore fisico, che spero continui a vivere a lungo. Grazie a tutti. Anche per questa video recensione è tutto. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.